Qui siamo a Gazzoldo degli Ippoliti e siamo diciamo una piccola capitale del peperoncino in provincia di Mantova. Azienda Agricola La Margherita ha organizzato la quinta festa del peperoncino e in questi giorni, ieri e oggi, ci siamo dedicati alla conoscenza e all'assaggio del peperoncino, dai meno piccanti ai più piccanti e anche ai piccantissimi. Il nostro vivaio è un vivaio specializzato in piante commestibili e durante il periodo turnale la pianta commestibile per eccellenza per noi è diventata il peperoncino. Nel giro di 5 o 6 anni, da poche varietà, si sono aggiunte tante altre varietà, molte proprio tipicamente dei paesi di origine e poi da lì da 100, sono date 200 adesso e continuano a crescere, la passione è aumentata. In questa serra abbiamo la nostra esposizione di tutte le varietà che coltiviamo, quest'anno abbiamo raggiunto 210 varietà provenienti da tutto il mondo, piccantezze diverse dalle meno piccanti alle più piccanti. Qui le persone sono venute ieri e anche oggi per visitare, acquistare, vedere e imparare a conoscere varietà proprio da tutto il mondo, provenienti da tutto il mondo. Chi è interessato può venire a visitarci e trovare le piante, le può anche solo guardare, toccare, possiamo anche provarle e dopo si possono anche acquistare. Ovviamente la pianta del peperoncino, uno mi dirà, ma dove la metto? Allora adesso fino alla metà di ottobre può stare ancora all'esterno e dopo diventa come una pianta d'appartamento, cioè nel senso se noi la teniamo almeno a 13 gradi durante il periodo invernale la pianta vive e può svernare tranquillamente, quindi per qualche anno il vostro peperoncino potrà vivere senza problemi. Abbiamo varietà molto interessanti, tipo tantissime dal Sud America, provenienza tipo, non so, Perù, come il peruviano arancio, oppure tipo Arabi bigusano, una delle più interessanti e particolari, proveniente dalla Bolivia, oppure abbiamo anche piante stranamente provenienti dall'est Europa, come l'Ungheria, l'Elephant, piuttosto che Little Elf, anche dall'Ungheria, oppure dagli Stati Uniti stessi, con il Carolina Reaper, che è uno tra i più conosciuti e famosi in tutto il mondo per la sua piccantezza. Il grado di piccantezza viene misurato con questa scala, che è una scala Scoville, inventata dal dottor George Scoville, per misurare proprio la piccantezza. È una scala empirica, non c'è uno strumento che misura la piccantezza, si fa per gruppi di assaggio, vengono fatte delle diluizioni della piccantezza fino a non sentirla più. Praticamente quando noi vediamo uno Scoville indicato, tipo uno tra i più piccanti, Carolina Reaper, 2 milioni di gradi Scoville, vuol dire che per spegnere una parte di piccantezza servono due milioni di parti di acqua, così funziona lo Scoville, per gruppi di assaggio, quindi chi è più sensibile sentirà fino a 2 milioni e 2, chi è meno sensibile fino a 1 milione e 8, 1 milione e 6, dipende proprio dalla conformazione del palato. Se uno per caso, diciamo, mangia inavvertitamente una piccantezza eccezionale, senza rendersi conto, per salvare, per spegnere l'incendio, diciamo così, l'incendio che è scoppiato in bocca, servono cose grasse, diciamo che la cosa più veloce che uno può bere è il latte sicuramente, oppure se ha del formaggio, lo yogurt, queste sono soluzioni molto molto interessanti. L'acqua e neanche il vino assolutamente no perché l'acqua e il vino accentuano l'effetto della piccantezza e quindi l'incendio non si spegne, si alimenta con l'acqua e il vino, sempre cose grasse. Col peperoncino si possono preparare tante pietanze, anche molto semplici. Qui abbiamo alcuni esempi, abbiamo un'insalata di cereali misti al profumo di alapeno verde, abbiamo una mousse di carote aromatizzata con del lime e del peruviano arancio, abbiamo una caviale di zucchino giallo arricchito con dei semi di sesamo e dello scotch bonne giallo e abbiamo anche dei semplici fagioli con un po' di sedano e dello shishito hot che è un peperoncino giapponese molto buono, molto particolare. Il peperoncino quest'anno l'abbiamo provato anche con la birra, abbiamo realizzato una birra fatta in casa aromatizzata col fatalli peperoncino africano agrumato. La gara di piccantezza è una gara all'americana, abbiamo dieci round di assaggio, si parte da un peperoncino con piccantezza intorno ai 30.000 Scoville e si sale a peperoncini fino a un milione e mezzo di Scoville. Il peperoncino va mangiato tutto completamente, rimane solo il picciolo e va masticato. Ho vinto la gara alla cascina alla Margherita, la mia passione per il peperoncino è ogni volta che io mangio un peperoncino mi incita sempre di più a mangiarne la quantità sempre maggiore perché forse crea dipendenza. Buonissimo, niente di più.